Sono giorni decisivi per l'apertura al traffico del discusso tratto di via Papiria in zona aeroporto a Fano. Il pezzo compreso nelle due nuove rotatorie di via Enrico Mattei è quella dell'accesso allo svincolo autostradale. A questa si aggiunge anche il parcheggio scambiatore in prossimità del casello della 14 dove questa mattina in entrambe le situazioni si è svolto un sopralluogo tecnico. I soggetti coinvolti a parte l'amministrazione comunale c'è il dirigente Sandro Sorbini con alcuni tecnici del comune che si occupano di strade, il responsabile del procedimento Walter Boggino e anche il consulenza del professor Andrea Grilli che dell'Università della Repubblica di San Marino ha con noi intrattenuto in questi anni un rapporto di collaborazione perché ci possa aiutare essendo professore di tecniche di costruzione della strade ci possa aiutare a risolvere i problemi che questa città ha. Insieme a noi ovviamente la ditta autostrade per l'Italia, Pavimental che è la ditta esecutrice dei lavori, Spea che è la ditta di ingegneria che ha seguito sia la direzione dei lavori che la progettazione. Quindi è un sopralluogo che serve per verificare che le cose stiano andando bene e questo è sicuramente uno degli obiettivi ma diciamo che abbiamo trovato un cantiere con alcune piccole cose aggiustature che dovremo fare i prossimi giorni. Gli interventi sono compresi nelle opere complementari alla realizzazione da parte di Autostrade per l'Italia della terza corsia della 14 e poco fa la comunicazione da parte del comune di Fano dell'apertura al traffico per giovedì 25 giugno. Tutto sommato siamo praticamente pronti ad aprire sia questo strato di strada per noi molto importante, per la cittadinanza molto importante ma anche il parcheggio scambiatore diciamo nella rotatoria d'ingresso all'autostrada ma anche la pista ciclabile di via Visconti che prosegue appunto fino a Tre Ponti che è molto utile sia a piedi che in bici per i residenti di Sant'Orso e anche di Tre Ponti. Quindi siamo insomma a verificare le piccole cose, ecco mancano alcuni piccoli aggiustamenti ma sono cose che in un cantiere di questo tipo si possono fare anche con le strade aperte.